Una piscina, una bellissima giornata di sole, palme, un bel sabato e i reduci del concerto di fito. E' stata dura, non tanto il concerto ma, a parte arrivarci con le vie da recipe, ma le quantità di birre e di cubata che hanno flutto. 27 marzo del 2010, che data, siamo riusciti ad arrivarci, incredibile. Non l'avremmo mai detto. Invece, ancora qui, vivi, sani una parolona. Questa piscina che, guardandola così, uno dice adesso mi tuffo dentro, in realtà è un inganno, perché è una truffa, si, è più che freddo. Sono entrato e, porca miseria. E che cazzo, ancora presto, ci vuole ancora un paio di settimane per fare il bagliatello.